Bene, adesso colleghi vi mostro come funziona speechnote.co che è un servizio di Google e sfrutta le app di Google per registrare la vostra testo quando lo dettate dovete scegliere la voce io scelgo italiano e a questo punto dopo aver inserito il microfono e abilitato basta che cliccate il pulsante sul microfono si vede una pallina, ecco che il microfono entra già in funzione e la registrazione è già operativa potete registrare qualsiasi cosa basta che il microfono sia abilitato quindi abilito il microfono ed ecco che lui comincia a registrare in questa schermata non si vedono i controlli laterali a destra che permettono di scrivere anche virgole punti a capi però se lo dettate con calma scrive anche la virgola virgola e si va avanti ecco in questo caso ho scritto la virgola ma io avrei dovuto dirla con ecco come in questo caso avrei dovuto dirla con naturalezza e la virgola veniva fuori punto e a capo e invece non è venuto niente male perché a lato ci sarebbe la punteggiatura da mettere ma non posso farla perché la risoluzione dello schermo non me lo permette quello che è interessante è che avete la possibilità di salvare inviare via mail bloccare il microfono copiare il testo dentro un elaboratore testi come farò adesso fermo il microfono copio il testo taglia entro dentro un elaboratore testi incolla ed ecco il mio testo pronto per essere elaborato spedito e farne quello che voglio quindi con una guida così semplice e con un sistema abbastanza semplice altrettanto è possibile vedere come posso dettare una macchina tenete presente che dovete usare chrome come strumento per la navigazione perché essendo un prodotto ma google esige il suo browser bene per le guide di Sode Linux e gli sistemi di semplificazione della vita Francesco Busillo vi ringrazia dell'attenzione Grazie a tutti Grazie.